...della Federico II. Lanciamo il premio, l'Innovation Village Award, che è dedicato quest'anno al tema del rapporto tra innovazione e sostenibilità. Quindi cerchiamo di valorizzare e poi di premiare ad Innovation Village, che si terrà il 4, 5, 6 aprile al Museo Nazionale di Pietrarsa, i progetti di innovazione che possono contribuire al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. E lo facciamo oggi con dei partner molto importanti. Innanzitutto con la Regione Campania, con l'assessore Fascone, che è madrina di Innovation Village, ci sostiene e collabora anche al premio naturalmente. E poi con l'Alleanza per lo sviluppo sostenibile, il cui portavoce Enrico Giovannini sarà oggi qui presente con noi. Loro fanno un lavoro di sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile molto importante a livello nazionale. E poi c'è un premio speciale offerto da Atia Isma, qui con noi c'è il presidente Mario Malinconico, e una menzione speciale a Inail Campania sui progetti che favoriscono l'innovazione nella parte di riabilitazione. Quindi oggi sì, premiamo l'innovazione sicuramente a favore della sostenibilità. Innovare, dice il vocabolario, è fare nuove tutte le cose. Ed è evidente che dobbiamo fare questo perché oggi il mondo, l'Italia, ma anche la Campania, non è su un sentiero di sviluppo sostenibile. Una sostenibilità a tutto campo, che sia una sostenibilità economica, ma anche sociale, ambientale, istituzionale, è alla nostra portata, ma solo se saremo in grado di innovare a tutto campo. Tre innovazioni necessarie. Le nuove tecnologie, nuove tecnologie che consentano di dare da mangiare a tutti gli abitanti del pianeta, a dare un'energia a basso costo, ma anche a evitare la montagna di rifiuti che produciamo, ahimè, ogni giorno. Innovazione nella mentalità. Abbiamo bisogno di cambiare il modo di consumare e di produrre. Quindi, come Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, siamo presenti nelle scuole, nelle università, adesso anche nelle amministrazioni pubbliche, per cambiare mentalità. Terza innovazione è la governance, come siamo organizzati. E questo è un cambiamento forse ancora più difficile, perché vuol dire cambiare il modo con cui i governi sono organizzati, le imprese, le istituzioni. Insomma, una grande opportunità, ma anche un grande impegno, da cui dipende non solo il futuro, ma anche il presente. Grazie. Grazie.